L'Associazione Essere Animali ha indetto una petizione dopo aver documentato le condizioni dei conigli negli allevamenti, dove questi animali vengono chiusi in gabbie grandi quanto un foglio A4, in cui non possono neanche alzarsi sulle zampe posteriori e a malapena riescono a girarsi su se stessi. Le conseguenze sugli animali sono gravi, ferite, lesioni da sfregamento, disturbi dal comportamento, malattie e morti premature. Si chiede al governo italiano di intervenire al più presto per cambiare la normativa e fermare questo crudele trattamento. Questi animali vengono allevati in gabbie, in gabbie non hanno la possibilità né di alzarsi sulle zampe posteriori né di correre, fanno fatica addirittura a girare su se stessi. Queste condizioni sono molto gravi, anche riconosciute tali dall'autorità europea per la sicurezza alimentare, che giudica proprio la restrizione di movimento comportamentale dei conigli come una gravissima problematica. Con la coalizione Handicay Jage abbiamo realizzato un'investigazione che è stata effettuata dagli investigatori di Essere Animali, dove abbiamo filmato le condizioni di 7 allevamenti italiani di conigli, filmando la presenza di animali con ferite, con lesioni da sfregamento, addirittura anche cadaveri all'interno delle gabbie. Abbiamo anche installato una microtelecamera all'interno. Questa operazione ha proprio confermato le limitazioni comportamentali e lo stato di apatia di questi animali che di fatto trascorrono tutta la vita immobili. Con questa investigazione noi chiediamo che il governo italiano prenda una netta posizione contro le gabbie, quindi da un lato che appoggi anche gli sforzi della Commissione Europea che vanno in questa direzione, ma anche che proponga una propria normativa nazionale per superare l'utilizzo di ogni tipo di gabbia per gli animali allevati. Quindi tutti noi possiamo anche non solo essere spettatori di queste immagini tellibili, ma anche di dare un contributo al cambiamento. Come Essere Animali abbiamo una petizione che si può firmare per chiedere appunto di vietare, di mandire l'uso delle gabbie per gli animali allevati perché sono assolutamente crudeli. Firmate e aiutateci su www.essereanimali.org www.essereanimali.org